Abbiamo provato che anche nei casi più difficili non si può minacciare la democrazia. La democrazia ha un valore a sé. Abbiamo provato che quando un popolo ha un credo, può sostenere e superare tutte le difficoltà. Voglio ringraziare di cuore ognuno di voi, indipendentemente di quello che avete scelto al referendum. Sono uscito nelle strade dimostrando la loro solidarietà al popolo greco, greci e grecchia. Oggi con tutte le difficoltà che si sono create dalla settimana scorsa avete fatto una scelta molto coraggiosa.